Cittadini di Siamo, alle ore 12 del 15 giugno 2009 il signor Sindaco Antonio del Giudice mi ha conferito l'incarico di Assessore allo sviluppo sociale, sport, cultura e tempo libero. Desidero innanzitutto ringraziare il signor Sindaco Antonio del Giudice, i colleghi Assessori e i consiglieri di maggioranza per l'incarico accordatomi. Desidero inoltre ringraziare i cittadini strianesi tutti che con il proprio voto hanno mostrato fiducia nel mio operato. Farò quanto è il mio potere per non deludermi. È intenzione di questo Assessorato e di questa amministrazione di dare un forte impulso allo sviluppo sociale, allo sport, alla cultura e al tempo libero. Ho già preso contatto telefonico con le associazioni presenti sul territorio di Istriano e nei prossimi giorni un manifesto pubblico fornirà maggiori informazioni. Spero che questo piccolo passo ci porti verso risultati che altri non possono nemmeno immaginare. In attesa di poter incontrare tutti voi al più presto un saluto e un abbraccio. Grazie.